18.000 produttori, 18.000 famiglie che fanno l'olio più buono del mondo. Di nuovo il campione mondiale dell'olio, è di nuovo un barese, è un pugliese, è stato l'olio più buono del mondo. Abbiamo delle realtà che sono meravigliose. E ci salvaguardiamo questa realtà delle piccole video. Ma è importantissimo, è la nostra linfa vitale, ma stai scherzando. Bisogna partire da lì e sentire questa comunità guarda. Parlavo con gli investimenti, ma domani devo dare 5.000 stipendi, 5.000 famiglie, devo licenziarci, ho 32 milioni di debiti, non ce la faccio a pagare gli investimenti. Devo inventarmi qualcosa perché devo guadagnare di più per dare i soldi, non ce la faccio. Io ho detto, guarda, la strategia di guadagnare, di fare più profitti è finita. O tu ti è contenti di fare un piccolo profitto per te e il resto lo fai per gli altri. E fai un servizio per qualcosa di altro, in cambio di un altro servizio che qualcuno farà per te. Perché questa è la nuova strategia. Siamo in guerra, siamo in guerra, siamo in guerra. Siamo in guerra, Roosevelt inventi una specie di aiuto reciproco. O ci sentiamo comunità o andiamo per le piazze con i bastoni. E' questa la realtà. Ma io sono andato in... Vado a parlare con i pescatori di Mazzara del Vallo. Hanno le reti uguali ai pescatori della Svezia, della Marimarca. E là pescano il pesce grosso, loro pescano il gamberetto. Poi non possono pescare intorno perché arrivano i giapponesi. Loro per legge non possono pescarlo perché c'è il fermo biologico, c'è il via di estinzione. Poi arrivano le porta aerei da pesca giapponesi e portano via tutto il tonno della Sicilia. Allora bisogna che ti rimetti lì e li vedi un po' perché le arance... Io non sono riuscito a mangiare un'arancia siciliana. Arrivano da Tunisi attraverso la Spagna. Poteva andare bene negli anni 70, la globalizzazione. Tu fai l'arancia, io faccio quello, le quote, ci diamo le quote. Adesso dobbiamo ridiscutere. Ci sentiamo lì. Anche lui ci può sagrati una cosa perché tu dici lì, aboliamo la nostra stazione. Perché non la trovi una stazione giusta, però porta comunque 24 miliardi di euro nel... Ma ti l'hai detto, ma io non... Questi sono i dati, tipo... Cosa tassiamo? Ma guarda, vai a vedere, vai a vedere. Ma no, ma non è che tu devi tassare. La prima casa non va... No, è chiarissimo quello che tu dici. La prima casa è sacra. Allora, i soldi li porti attraverso 2 miliardi e 2 che sono stati nel piano finanziario di Monti per finanziare un'opera inutile, costosissima, 2 miliardi e 2 per la TAV che non serve a niente. Se vieni a Genova, vieni alla Spezia, Savona, metà del porto, metà dei contagi sono vuoti. Cina e India, 3 miliardi di persone, fanno il mercato interno, non esportano più. Abbiamo dei problemi, non arriva più merce. Noi facciamo una TAV da 20 miliardi per fare il corridoio 5 che non esiste, esiste nella mente paranoica. Cioè tu dici in qualche modo si recuperano questi soldi. Ma vi recuperi negli armamenti, compriamo due sommergibili, compriamo la caccia, non trovi i soldi per la scuola. Ma sono balle, sono balle. La politica è semplice, lasciateci andare dentro con persone normali. Un ammalo di famiglie che ha tirato tutta la fine, sa benissimo di economia, meglio di questi finanzieri da salvo, che sono da strapparsi, sono paranoici, sono gente che ha studiato su dei libri degli anni 70, non funzionano più. Quindi entriamo là dentro, massima trasparenza, ma che cosa? Io vorrei capire un po' perché io, tutte le volte che parlo, io sono 25 anni che parlo di economia. Io ho girato mezzo mondo, sono andato a parlare con i tecnici di Zurigo, sono andato a Gupertan Institute, conosco le più belle menti, ho conosciuto l'onore di conoscere, non so, Lester Brown, conoscere Wackernagel, quello di impronte con la gente che ha fatto, fa pensiero nel mondo da anni. Io, nessuno ha detto che io sono un imbecile che dico delle cose, io ripeto delle cose che hanno detto, ma delle persone straordinarie, sono andato a conoscere, sono andato a vedere la realtà. Nei politici di Zurigo, gli architetti design lavorano, la politica lavora su tre parametri, come fare le cose con un terzo di energia, cioè passare da 6 kilowatt a 2 kilowatt, come fare le cose, la materia con metà materiale, passare da 40 tonnellate a 20 tonnellate e come lavorare 20 ore alla settimana e non 40. Questa è la politica, fanno piani di 20 anni. Cioè quando ha partito i 100 mila tetti fotovoltaici, la Germania, è partito da 100 mila tetti. Lo Stato tedesco ha dato i soldi, tasso zero, prima rata rimborsabile dopo tre anni. Hanno lo Stato. Noi non abbiamo lo Stato. Tu dici l'assenza dello Stato che ci porta a questo. Noi abbiamo...